... Formi i dodici trappelli e proceda all'ispezione delle case e agli arresti. Cinquanta, cento, centocinquanta, mille, anche tutto il paese. Entro domani chi ha avuto anche solo l'intenzione di torcere un capello deve essere in carcere. Arrestate chiunque si trovi per le vie, fucilate sul luogo chi resiste. Lei si occupi della tassa di guerra, questo è compito suo. Generale, dieci onze all'ora in questo paese, dove le trovo? Le trovi dove vuole, frughi dappertutto, sprema la gente! La tassa di guerra deve essere pagata interamente e puntualmente. Grazie. 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 Grazie.